Il vostro core business è proprio individuare questi finanziamenti e questi enti che poi erogano finanziamenti pubblici. Esatto, noi nel nostro studio, all'interno del nostro team abbiamo proprio chi si occupa su diverse tematiche, quindi chi si occupa di ambiente, chi si occupa di energia, di turismo e soprattutto chi si occupa ai vari livelli. Quindi c'è un team che lavora sui bandi regionali e nazionali e altre persone che invece lavorano sui bandi comunitari, perché sono proprio soggetti beneficiari e strutture di progetti da presentare diverse. Quindi occorre avere delle competenze, delle professionalità, non da ultima quella della lingua ovviamente, chi lavora sui bandi comunitari è tutto in lingua inglese, quindi bisogna anche avere questa conoscenza. Serve un team di professionisti con delle qualità non indifferenti per fare questo lavoro. Costantemente aggiornato, quindi corsi di aggiornamento, di formazione, di progettazione, di rendicontazione dei progetti. Ecco io vorrei tornare un attimo proprio ai progetti, perché io penso che tanti di noi almeno una volta si sono chiesti come funziona, quali sono le linee guida principali per poter accedere a uno di questi finanziamenti. La prima cosa naturalmente è il progetto. Sì, diciamo che noi lavoriamo in questa maniera, che penso sia un po' quella standard. Abbiamo un ricercatore che deve monitorare costantemente tutti i bandi che vengono emanati e poi deve studiarseli. Quindi deve fare una prima mappatura, guardare i contenuti di ogni bando. E ogni bando è diverso dall'altro, quindi ogni bando ha delle sue priorità, ha delle sue caratteristiche, ha dei budget messi a disposizione più o meno importanti.